Ciao a tutti, come state? Spero vada tutto bene. Oggi a grande richiesta torno con una videoanalisi su un'azienda. Prima di partire però con la videoanalisi su NIO, vi dico solo che se questo video qua raggiunge i 100 likes entro oggi, sabato mattina faccio uscire un video in cui vi consiglio 3 azioni da monitorare per il mese di marzo. Allora partiamo col dire qual è il business model di NIO. Per chi non la conoscesse infatti NIO è una società automobilistica cinese che si concentra sulla produzione di veicoli elettrici di lusso. E qua secondo me c'è la prima cosa da tenere d'occhio perché in generale si sa che i margini nel settore automotive non sono molto alti. Cosa che sostanzialmente ha abbastanza cambiato Tesla ma in linea generale è un po' tutto il settore EV. Diciamo che la maggior parte delle entrate di NIO derivano appunto dalla vendita dei singoli veicoli elettrici. Ha però delle altre fonti d'entrata. Pensate che NIO dà la possibilità di acquistare sì i veicoli ma anche di noleggiarli. Dando la possibilità a tutti di acquistarli tramite dei pagamenti flessibili e personalizzati. Considerate che NIO ha creato e brevettato uno dei sistemi di ricarica più interessanti secondo me del settore automotive. Chiamato NIO Battery Swap che sicuramente vi sto facendo vedere. Ovviamente poi NIO guadagna tramite le ricariche tramite le colonnine e poi dà la possibilità ai clienti di ricevere manutenzione e aggiornamento dei software e altri servizi accessori che continuano ad aumentare le revenue per NIO. La cosa interessante del Battery Swap è il fatto che dà la possibilità a NIO e di conseguenza anche ai proprietari di poter noleggiare singolarmente batterie di dimensioni diverse in base alla necessità. Supponiamo che io in linea generale non viaggio tanto durante la settimana e quindi non ho bisogno di avere una batteria molto capiente. A quel punto lì mi conviene semplicemente durante la vita della macchina avere una batteria più bassa ma nel momento in cui mi serve fare un viaggio più lungo, noleggiare semplicemente una batteria più potente, in quel caso andrò in una NIO Battery Swap, la cambierò, pagherò ovviamente il noleggio della batteria in sé e poi nel momento in cui avrò finito il viaggio tornerò semplicemente alla batteria di prima. E secondo me è molto interessante il mio modello di business. Parlando invece del grafico ho deciso di farvi vedere un po' qual è l'andamento di NIO in relazione anche al suo indice di riferimento che sarebbe l'Angseng Index. Come potete vedere da inizio anno sta sottoperformando l'indice di riferimento perché ha una performance negativa del 14% contro un meno 3. Sta sottoperformando anche nell'ultimo anno perché NIO è crollata veramente tanto. Considerate che dal massimo toccato praticamente a dicembre-gennaio tra il 2020 e il 2021 ha poi perso praticamente un 90%. E quindi andiamo a vedere semplicemente secondo me se questi sono prezzi interessanti per l'azienda. Mi sono segnato qua alcune cose interessanti dell'ultima trimestrale però ve le faccio vedere un attimo pian pianino. La prima cosa che sicuramente non mi è piaciuta è il fatto che NIO abbia rilasciato dei dati presentando un margine sul veicolo molto più basso rispetto a quello del 2021. E questo leggevo principalmente è dovuto al fatto che hanno dovuto fare dei riammodernamenti software e hardware sulle singole macchine ma che però questo abbassamento dei margini sia temporaneo. Considerate che questo è il margine di tutto il 2022 ma se non andiamo a vedere il margine del trimestre ultimo è stato veramente molto molto basso addirittura del 7% che non si può vedere in relazione allo storico dei margini di NIO. Per quanto riguarda invece l'aumento del fatturato trimestre su trimestre è stato del 24% quindi è follia è molto molto elevato mentre anno su anno addirittura del 60% che è anche un po' quello che è l'obiettivo per il 2023. Considerate che NIO nel 2022 ha consegnato all'incirca 123.000 veicoli e la sua guidance per l'intero anno 2023 dovrebbe essere all'incirca di 200.000 quindi addirittura un aumento del 63% anno su anno. Considerate che NIO prevede per il Q1 2023 all'incirca consegne tra 30.000 e 33.000 unità che so che vi sembrano bassi però dovete considerare anche il fatto che nel Q1 c'è sempre il capodanno cinese e quindi per all'incirca una settimana le fabbriche sono totalmente chiuse. Però come potete vedere c'è comunque un aumento dal 2021 al 2022 e addirittura nel 2023 perché anche se dovessero soddisfare solo le stime basse della guidance dovrebbe essere all'incirca 331.000 veicoli quindi comunque un buon aumento. Il CEO ha poi sostanzialmente detto che prevede un aumento delle consegne nel terzo e quarto trimestre 2023 che dovrebbero all'incirca portare come vi dicevo prima le consegne totali intorno ai 200.000. Cosa importante poi detta sia dal CEO ma anche dal CFO è che nel 2023 i margini dovrebbero ritornare intorno al 14% parlo sempre dei margini dei veicoli quindi sicuramente dei margini più interessanti rispetto a quelli visti nell'ultimo trimestre. Per quanto riguarda la valuation mi è molto più difficile farla considerate che non posso utilizzare il mio algoritmo perché semplicemente NIO è un'azienda in perdita e quindi non si può fare né un discounted cash flow né delle stime sui utili per azioni fra tre anni perché semplicemente molto probabilmente NIO non farà utili per i prossimi tre anni. Di conseguenza l'unica cosa che possiamo fare secondo me è fare una valutazione sui competitor. Per farlo possiamo utilizzare alcuni indicatori come magari il price to sales che semplicemente mette nell'azione la market cap ovvero la capitalizzazione di mercato e il fatturato. Attualmente NIO sia sul price to sales attuale sia su quello forward che semplicemente prende il fatturato dell'anno successivo delle stime degli analisti è molto sotto i competitor. Pensate che NIO attualmente ha un price to sales all'incerca di 1.9.2 contro Tesla ad esempio che è un price to sales di 7. Anche vedendo il forward P NIO ce l'ha di 1. Tra l'altro forse ho detto forward P ma intendevo ovviamente forward price to sales. Per quanto riguarda invece la situazione debitoria non c'è nessun tipo di problema considerate che attualmente NIO ha all'incirca 40 miliardi di renminbi in cash cash equivalent contro debiti totali sia di breve sia di lungo all'incirca solo di 14. Quindi non ha nessun tipo di problema di liquidità. Se noi andiamo a prendere le stime di crescita del fatturato di NIO ci possiamo rendere conto che a questo price to sales qua NIO è molto ma molto molto interessante ed è per questo che ovviamente con una piccola porzione del mio portafoglio e anche con quello di mio padre siamo investiti su questa azienda qua. Che è un'azienda che ho in portafoglio dal 2020 quindi sì mi sono beccato la bull run fino a 60 dollari non ho venduto perché questa è un'azienda che mi piace e voglio tenere per il futuro. Ovvio ricordi logica e a posteriori vi direi sì probabilmente conveniva vendere 60 dollari però ci sta a me piace questa azienda qua voglio tenermela in portafoglio. Poi passando all'analisi tecnica trovo molto interessante questo supporto che avevo segnato un po' di tempo fa che potrebbe anche a mio avviso preannunciarci magari un possibile rimbalzo. Chi lo sa considerate anche che l'RSI attuale di NIO è 35 quindi molto molto basso in iper venduto quindi chi lo sa NIO a mio avviso potrebbe essere molto molto interessante a questi prezzi qua. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti ricordate che se questo video vi è piaciuto di lasciare un bel like e che sabato magari vi porto il video su tre aziende interessanti da monitorare per marzo. Ovviamente poi a breve porterò anche il video su Alibaba. Detto questo spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like e un commento e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti.